A CRISTO! CRISTO! Sui scatterò una foto! Ma cosa c'ho oggi? Il Parkinson che... Ma come smiro? Ciao a tutti ragazzi, io sono il Zectro Oggi, signori! Prendete il mouse e spaccate il tasto di like perché oggi, incredibile ma vero, sono con il team che vedete ogni tanto nelle mie live Mi scappa da ridere ma abbiamo anche Rettuna E lui dovrebbe essere, se non sbaglio, Argento Che Dio ce la mandi buona Abbiamo un po' di tutto ragazzi, sono varie etnie oggi in questo team Ma cassa a voi Il primo round noi ce lo startiamo subito con Ela perché vorrei anche far... Una buona partita, sono abbastanza teso E quando so che ci sono dei bomber che sanno che io registro Devi per forza giocare bene, per forza Cosa fai se no? Carichi il video così? Eh, io tento lo spawn kill Ce n'è uno mi sa Orcaccio di sua sorella, mannaggia Non ho capito se l'ho preso ma non penso Non ho visto bene Noi adesso facciamo l'esterno Dobbiamo provare un po' a fare la differenza Perché è un attimo qua che vada male la partita Allora i bomberoni ce n'è un altro fuori E tre sotto se non vedo male È arrivato Tatcher ed è anche bello incazzato questo Che qua sta spaccando tutto Dovrebbero essere qua Piano eh C'è i bana Sono tutti da ingresso principale Io devo stare attento perché Non devono sapere che sono qua io Non hanno neanche dronato e non lo sanno Minchia ce n'è uno vicinissimo Bella raga, bella Oddio Stopirla Chi era capitato? Ce n'è un altro E' di qua? Dovrebbe essere qua C'ho il cuore in golo È un attimo Vedi ne fai fuori uno Adesso ho capito che c'è qualcuno in giro Devo stare attento No rega che round Tesissimo eh Io ne sentivo uno qua prima Quindi devo stare attento Perfetto Ma sono tutti sotto? Aspetta che Hanno beccato una menina Facciamo fuori la Claymore Che concentraci oh Ce n'è uno qua eh Mamma che round Mamma che round bomber Qua mi sa che abbia beccato una trappola di Frost Non mi vedo? C'è fuori anche il drone Così mi chiamano dei punti Guardalo lì Guardalo Non fotte con la gang Zio Coglione Mamma mia raga Via via Mi chiamaci la kill Che me l'hanno gentilmente lasciata De duco E abbiamo sfiorato il full Che partenza è raga Ma che partenza è? Abbiamo sfiorato il full team Strano Eccoci Eccoci allora Purtroppo è crashato uno di noi Provo a prendermi blitz Che round mamma mia raga Io ormai guarda ci rinuncio Nel senso ho fatto un sacco di full team eh Da quando gioco a questo gioco Ma ultimamente Ne secco sempre quattro E non arriva mai l'ultimo Mai Una sfiga Impressionante Che bello col blitzone Mamma mia Mi sto cagando addosso da dio ma Mi diverto Non sento nessuno qua ai dintorni Ok termite la Madora rega Che ansia Così Fai saltare tutto E' sinistra Eh ci sono due però sono fottuto Dov'è? No basta che non c'è ELA raga Per favore perché Se becco ELA Io sono finito Non capisco dove stanno Chi è che ha sparato? Mi provo ad andare a vedere sopra Se c'è qualcuno Non so dove No 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 dove ho Figa è in bagno È in bagno rega Godo godo Guglioni Mi scatterò una foto Mi scatterò una foto Eeeh Che bello blitz raga Porco mondo Adesso ditemi ma che operatore figo è Sta venendo fuori una grande partita Guarda io spacco anche ste botole Però se ne becco uno Rischio di morire Ho fatto poca vita Tornate a occuparvi del contenuto Lasciate perdere Oh ma no Eh no Non posso fare niente Troppo rischioso raga troppo Stare entrando in obiettivo? No che liscio No che liscio Arriva No Cristo raga qua ho sbagliato io Se lo miravo meglio riuscivo a farmelo Loro sono uno dentro uno fuori Occhio eh Perché se uccidono termite Zio Eh infatti Infatti raga Vabbè Via così dai Uno a uno Sta venendo Per il momento una bella partita Non buttiamola via perché Lo scorre è buono E riprendiamoci anche del full team sfiorato Quindi giochiamocela in questo modo Oh zio Ancora Praticamente come se stessimo giocando Sempre un in meno eh Peccato che Continua a crashare lui Già Capkan in one shot Devo provare a far come prima Come il primo round Che non è affatto facile ma Ne sento uno Allora Mica raga se riuscivo a prenderlo così Tanta roba Sapete cosa vi dico? Che provo una cosa rischiusa ma Qua non sembra esserci nessuno Provo a bazzicare in questa zona Perché se entrano ad obiettivo almeno Incredibile Raga ma io parlo e succede quello Ma è assurdo È assurdo Guarda se non crashava stavamo 5 contro 3 Bravo bravo Quella madonna Beh Pensavo di beccarne uno da qua Ma a sto giro Secondo me è dall'altra parte Perché mi erano tutti di là Raga non ne ho visto mezzo Mezzo Ma chi sono io? Il figlio dello stroce Non ne ho visto uno Pazzesca sta cosa Oh Cioè per l'amor di Dio Non che mi dispiace eh Però volevo fare qualcosina in più Occhio perché prima Avevano fatto uno spawn kill Era uscito Da queste parti Trovo qualche wallbang Qualche one tap Qua ne sono partite addirittura due Vai eh Belli cattivi raga Belli cattivi Portiamocela a casa No vabbè Zio sabbione raga Stai giocando a un impero fisso Speriamo che non influenzi La parta Il bomber Cos'è una mina di lisio Io sto pensando di Di fare Eh niente C'hanno anche il mute È tosta raga Si stanno difendendo Abbastanza bene Sono molto chiusi Però Io provo a bucargli da dietro Mi ricordo Una volta qua Ci ho preso una trappola di frost Mortale Quindi Stiamo attenti Ah che palle Vado un po' alla cieca Perché non ho più drone Bravi bravi raga Grandissimi Non dovrebbe esserci nessuno Rimane un nemico Claymore qua Ma anche sto giro Non l'ho visto mezzo Ecco Bene Eh sono uno stronzo Ci ho pattuto i trappolocci Svia e fande Ma se conti Quanto sarà qua dietro l'altro Lo becco io raga Non mi morite Dovrebbe essere qua Dentro è dentro Boh E anche a sto giro Noi siamo utili Al prossimo Eh Facca voglia Cioè io ho giocato Praticamente I primi due round Vabbò Avanti tutte raga Match point Perché qua c'è un tonno L'ho ferito Se intendono colpito Perché è ferito Su rainbow Si intende Averlo mandato a terra Io l'ho solo colpito È sempre qua Che palla Pensa che sfiga Pensa che sfiga Il primo round L'ho visti tutto E adesso neanche uno Dovrebbe essere Dalla parte di Ela Beh infatti E la stai Morta Eh sì Eh la madonna Eh Tosorela Beh Se che tu Eh sono là Infatti li sentivo Bravo resisti Tuna Vai così Bomber Ce n'è uno qua Ce n'è una che a destra Però E va a cassa Voglia che kill C'è qui avuto Una reazione Che neanche Chi neanche Bella Rodriguez È il primo volatile Nella sua vita Stiamo parlando No è morto Tuna Eh Non una a destra Non una a sinistra Forco cane Sono tutte le due qua E qua Ma come ho fatto Ah Cristo Cristo Ma cosa sparo Pinzimonio oggi No No Feriti due E sto bastardo E' quello che ho ferito All'inizio del round È lui Madonna Digimon Raga No vi giuro Io per queste cose Impazzisco Impazzisco Potevo farmene Tutte e due Tranquillamente Potevo cracciarla Senza tanti problemi Mi sono fatto prendere un po' Da lanza Ho smirato anche Ragioniamola eh Perché Se vincono questo round Poi si va a supplementare Ed è un bordello Io direi di mettere Una clamor Una clamor qua Così ragazzi Ci pushano da dietro La beccano E possiamo concentrarci Principalmente A spaccare L'obiettivo Non è che non hanno Neanche il bandito Non hanno mute Spacchiamo Vamos bomber Che ho spaccato tutto eh Non ne vedo Allora Sto facendo Del bel casino Anche Chi è Asce Mamma mia Che bordello Fammi vedere Se c'è un bomberino Qua da qualche parte Che sta facendo Il furbo Io non capisco Ho visto Ho visto uno Porca miseria Rega Ma cosa c'ho oggi Il Parkinson Che Ma come smiro 5 contro 2 Signori C'entra C'entra come dei mostri Toccio dietro Oddio Dov'è Oh mio Raga Raga Abbiamo rischiato Una cifra Abbiamo rischiato Una cifra Siamo morti Praticamente Tutti nel finale Buono così Peccato Peccato Perché se giocavo Gli ultimi round Come l'ho giocati Principalmente I primi due Veniamo a fare una partita Pazzesca Però raga Io mi sono divertito Abbiamo sferato Un full team L'ho goduta Cosa dire Mi raccomando Come sempre Spolliciate Commentate E rimanete sintonizzati Qui sul mio canale Per tanti altri nuovi video Dal vostro Esectore è tutto Un saluto Un abbraccione Ciao campioni